Il tiro perché l'abbiamo chiaramente visto, Andrea Giecki è andato a suggerirgli questa conclusione perché qua lasci, lascia tanto spazio sulla linea dei tre punti, Morlò, isolamento a Wilson, Morlò Benzaone, grande dentro, ma si tirano qua le due Giecki, Morlò, Inglés, Cassinari, Galvini, tipo il tasto di Gattini, tagliali, guardarci sulla linea dei foto che realizza Dan Williams contro Cassinari, baga lo scarico Williams, Inglés, tutto il campo si vola e realizza un tre il cinque, forse è l'unico a salvarci insieme a Wilson e a Terosmi quest'oggi che non ha avuto niente, veramente, si va da Peretti che subisce il grande aiuto di Morlò con la Peretti che è ancora l'ore, si lotta a Cassinari sulla palla controppiere per Osimo, Inglés, per Gavini che impiova 16 punti Beretti, Wilson penetrazione si schianta contro Guarashi poi, per tre punti Williams non riesce Durant, in qualche maniera palla ancora persa, recuperata da Osberti, veramente l'abbiamo vista di tutti i colori con Osberti in pivot basso contro Morlò si butta dentro, tira con errore